A Biella, toccato e fuga per Nicola Orlando e Stefano Radei. Una giornata intensa, tante emozioni. Allora, com'è andata questo ritorno nella tua città, Nicola? Sono emozionatissima che sono venuta qui, ho visto tanta gente, sono emozionatissima e sono felice. Visto di nuovo i tuoi fratelli, Michel, c'è sempre con te, Caroline. E Stefano, l'hai presentato ai tuoi amici? Sì, ho fatto conoscere anche Stefano Radei, ho fatto conoscere i miei amici, tanta gente, mio zio, mio nonno. No, alla grande, è stato bellissimo conoscere il mondo di Nicola, essere qui a Biella con lei. Ci siamo emozionati, divertiti, ci siamo sfidati a duello, mi ha battuto sempre. Quindi lei è la vera campionessa, insomma. Sono contento di essere qui, di avere questa opportunità di viverla con lei, con Michel, con la famiglia, con Caroline. Tutto alla grande, veramente è una bellissima giornata. E adesso sabato, un'altra nuova sfida? Eh sì, sabato un'altra nuova sfida, sempre pronti, sempre all'avanguardia, sempre cercando di stupire, di divertirsi, di stupirci anche noi. Di cosa può fare questa campionessa, è ancora la strada lunga e chiedo a tutti di supportarci come sempre perché ne avremo sempre più bisogno. Spero, Niki? Sì, giusto. Come finiamo? Con un un? Tutti insieme? 3, 2, 1, spacca! Ha, ha, ha! Grazie.